320 soccorritori sanitari e 140 uomini della protezione civile impegnati nelle strade a Palermo per la visita di Papa Francesco, 30 ambulanze e altri 8 mezzi medicalizzati con operatori pronti a intervenire in caso di emergenza. Anche le guardie mediche attive dalle 8 alle 20 verranno potenziate incrementando il personale. Prende forma il piano straordinario messo a punto dalla prefettura per organizzare al meglio l'arrivo in città di Papa Bergoglio. Imponenti le misure di sicurezza, i luoghi e i percorsi di maggiore criticità saranno delimitati con transenne antisfondamento. Predisposti i varchi di accesso con metal detector e collocati 350 New Jersey, le barriere antiterrorismo. Il sistema integrato di telecamere sarà rafforzato anche da un sistema heli-video installato su un elicottero della Polizia di Stato e di un drone che riprenderà dal mare la cerimonia religiosa al Foro Italico. Intanto è già scattata la rivoluzione del traffico, non si può più parcheggiare lungo il percorso di Papa Francesco dal porto al Foro Italico. Da sabato scatterà anche il divieto di circolazione, non si potrà lasciare l'auto nemmeno nelle zone limitrofe. Per le auto i Pullman e dei fedeli che sono state individuate aree come parcheggi Basile, Miri, Forum e poi solo per i Pullman la cittadella universitaria, la caserma Cascino, la caserma Tucori, la caserma Turba e la caserma Di Maria nella zona della stazione Notar Bartolo. L'AMAT che aggiornerà il sito con le deviazioni di oltre 20 linee propone un biglietto di 1,40 euro valido per tutta la giornata del 15 settembre. In tutte le aree chiuse al traffico non sarà possibile il conferimento dei rifiuti e dove vige il porta a porta è vietato esporre rifiuti sia per le utenze private che per quelle commerciali. I propri commercianti della zona si è rivolta il presidente di Confcommercio di Palermo, Patrizia Di Dio, che ha invitato i titolari a chiudere le proprie attività vista la portata straordinaria dell'evento. colpiti Grazie a tutti